Il primo passo è stato compiuto con questa vaccinazione innanzitutto per gli operatori sanitari, tra i quali anche gli infermieri. Le prime sensazioni, non tanto ovviamente sull'efficacia del vaccino, ma proprio su questo primo passo nella lotta al Covid? Finalmente si intravede un po' di luce in fondo al tunnel. La scienza ci dà un'arma che possiamo utilizzare contro questo virus che finora ha fatto tantissimi morti, anche tra gli operatori sanitari. Quindi il dovere di ogni cittadino è quello di affidarsi alla scienza e di vaccinarsi. Proprio per dare quella certezza ai nostri cari e di alleviare in questo momento particolare la fatica di tutti gli operatori sanitari. Quindi un'arma da utilizzare con enorme parsimonia e consapevoli che è l'unica al momento che ci darebbe la possibilità di sconfiggere questo virus.